Al Salone del Risparmio siamo con Antonio Bottillo, Country Ed Italia di NETXIS Investment Managers. Volevamo chiederle quali sono le sfide che attendono gli investitori in questo inizio di 2018. Senza dubbio il ritorno della volatilità fa parte delle sfide che prendono un po' l'investitore in maniera trasversale. Diciamo che sarebbero da seguire trend di lungo periodo, ce ne sono diversi come idee, si parla oggi di sostenibilità da questo punto di vista. Noi siamo presenti con il nostro marchio di fabbrica Mirova che è specializzata nel campo e che offre agli investitori alcune opportunità di cavalcare i trend di lungo periodo. In questo contesto quanto è importante la gestione attiva e le strategie di gestione attiva per cogliere al meglio le opportunità? Con il ritorno della volatilità si tende soprattutto ad approfittare e ad avvalersi quella che è la gestione attiva. Non crediamo che ci sia tanto spazio ancora nel beta, quindi nella direzionalità pura del mercato. è il momento di affidarsi a gestori attivi, è il momento di affidarsi a gestori che hanno la capacità di scostarsi da quelli che sono gli indici di mercato che spesso e volentieri sono presi a riferimento come benchmark dei portafogli dei clienti e degli investitori. Noi crediamo che gli investitori abbiano degli obiettivi diversi da quelli di superare gli indici di mercato. Quindi è un valore aggiunto la gestione attiva? Assolutamente. Grazie mille. Grazie a voi e buon lavoro.